Grazie a tutti E quando è che parti? Mi hanno detto che devo stare qua Dove sembra qualcuno? Io sono Marco Terzi Io non ce la doniamo, non è il dirlo Io non ce la doniamo Antoine Grazie Giovanni Grazie Matteo Grazie Meri Un presento Alessandro Ascend 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 Grazie a tutti.